Ciao, sono Anita Giespica. Ciao Christian De Sica. Michelle Hunziker. Fabio De Luigi. Sono Nancy Brilli. Cosa non mi piace di me? Il fatto che quando faccio le interviste al sole devo stare con gli occhi chiusi perché non ce la faccio prendere le aperte e quindi stare tutta l'intervista così. Il karate. C'è un karate molto tosso, molto quello che dico e deve essere così. Di me quello che veramente non mi piace sono i capelli che sono ricci, 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 ricci. Il pessimismo. Vorrei essere un ottimista come quei personaggi che interpreta il cinema. I piedi sono una roba veramente allucinante. Non mi sento sexy. A volte, insomma. Però questo lo lascio a voi dire, se vedete sexy. Beh, io non mi sento sexy, io sono sexy. Molto. Sì. Non ci credo però. Il luogo che mi piace di più di Costa Serena è... Il posto che mi piace di più... è la mia cabina. Quello di dove si fa massaggi, dovevano essere rilassati. Trovo bene. Il problema è che quando esci dalla doccia c'è sempre qualcuno che pulisce il ponte e quindi ti vedono, però per il resto va bene. La mia cabina. Uno dei posti che preferisco di Costa Serena è questo posto dove siamo ora. la spa, ovviamente. Così pieno di luce, così sereno. Meravigliosa perché si dorme benissimo e come non dormo a casa mia che non so perché mia moglie ha fatto di maderarsi così duri che sembra di dormire per terra. Il mio personaggio è molto dolce, molto decisa e con un carattere come me, molto forte. Pazza, animalista, indomabile. Com'è il mio personaggio? Un misogino, goffo, un po' antipatico. È simpatica, è tradita e di buon umore. Prepotente, carogna, molto simpatica. È una d'amica. Sono come un vento. Che tu tocca, tocca in tutto e sta. È una d'amica. Sono come un vento. Feliz Navidad e un prospero anno nuovo. Che le desea Aida. Molta salute. Tanta tranquillità a tutti noi. Che dire, buon Natale personalizzato da me, da Fabio De Luigi. Quindi è diverso se dice uno la stessa frase dopo, è diverso perché lui è un altro. Quindi personalizzato in questo modo è così. Buon Natale da me. Io vi auguro un bellissimo Natale, anche perché Natale è veramente una delle feste che io amo di più e spero che sia un Natale meraviglioso. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale